EWC, Pilot Spitfire, Chronograph, design distintivo e prestazioni eccezionali. L'orologio EWC, Pilot Spitfire Chronograph è un segnatempo di alta qualità, ispirato al leggendario caccia britannico Super Marine Spitfire, che ha fatto la storia dell'aviazione durante la Seconda Guerra Mondiale. Questo orologio combina eleganza, sportività e tecnologia, offrendo prestazioni eccezionali e un design distintivo. La collezione di orologi EWC Pilot nasce nel 1936, quando la casa orologera svizzera EWC Schaffhausen realizza il suo primo orologio d'aviatore, dotato di una cassa antimagnetica, di un vetro antidecompressione e di una corona a vite. Questo orologio era pensato per soddisfare le esigenze dei piloti, che avevano bisogno di uno strumento preciso, affidabile e funzionale. Negli anni successivi, EWC sviluppa ulteriormente la sua collezione di orologi d'aviatore, introducendo modelli come il Big Pilot, il Mark 11 e il Pilot's Watch Chronograph. Nel 2000, EWC dedica un'edizione speciale limitata a mille esemplari al Super Marine Spitfire, il famoso caccia britannico che ha combattuto nella battaglia d'Inghilterra e che è considerato uno dei simboli della resistenza e della libertà. Questo orologio, chiamato Pilot's Watch Chronograph Spitfire, presenta una cassa in acciaio lucidato, una lunetta lucidata e un quadrante in ardesia, che richiama la fusoliera grigia del velivolo. Il quadrante ha anche delle lancette e degli indici luminescenti, che garantiscono una buona leggibilità in ogni condizione di luce. Il movimento è un cronografo automatico con indicazione della data e del giorno della settimana. L'AWC Pilot's Spitfire Chronograph è un orologio che rappresenta al meglio lo spirito e la filosofia di EWC, una casa orologera che da oltre 150 anni si dedica alla creazione di segnatempo di alta qualità, innovativi e funzionali. Con le sue caratteristiche tecniche di alto livello, questo orologio garantisce prestazioni eccezionali e affidabilità in ogni condizione. L'AWC Pilot's Spitfire Chronograph è un orologio che non passa inosservato, che attira lo sguardo e che racconta una storia affascinante.